ma è un cucciolo è un cucciolo? è un cucciolo, si è un cucciolo è un cucciolo, è un gabbiano nido è un ala rotta, pescino è un cucciolo cioè un cucciolo però peserà già 8 kg no, non sa volare poverino, speriamo che lo farà piu 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 come posso aiutarti? dimmelo e non so, mi fa pena magari è caduto da qualche nido facciamola la rotta, si forse ha provato a volare vabbè, lasciamolo stare io lo diciamo a quelli della Hall che c'è un gabbiano ferito che c'è un gabbiano Grazie a tutti.